Allora vi dico la verità, non so quale squadra vedere quest'anno per dire quali saranno le big e quali non saranno le big però ragazzi una certezza ce l'ho, una certezza ce l'ho, ovvero che forse, forse arrivati al 2024 dovremo iniziare a guardare all'Atalanta come una pretendente per lo scudetto perché non è un caso, perché l'Atalanta non è lì per caso e io ve lo dico proprio chiaramente da romanista ve lo dico guardate da romanista, non è lì per caso l'Atalanta, non è un caso se l'Atalanta è lì da anni e non è un caso il progetto che ha costruito l'Atalanta, voglio vedere il Bologna ad esempio che per me ha ricominciato come aveva finito, ve l'ho detto anche nel video di ieri però la differenza tra il Bologna e l'Atalanta è anche il mercato che il Bologna ha fatto certo qualche calciatore l'ha preso però ha perso Diago Motta, ha perso Zirk Zia, ha perso Calafiori non ha riscattato Selme Kerr, non ha riscattato Christian San, questo vuol dire che erano due giocatori che non facevano parte dei piani di italiano ad esempio e quindi hai preso un allenatore che non era in linea con Diago Motta probabilmente se no li avrebbe riscattati e quindi non hai tenuto l'ossatura del Bologna ecco quella cosa lì quando bisognava farla perché il Bologna quest'anno se avesse ne parlavo con un tifoso del Bologna ultimamente dicevo se il Bologna avesse, no forse ne parlo proprio con Pierino che ci penso nel video e parlavo del Bologna, parlavamo e dicevo proprio se il Bologna avesse tenuto tutti magari perdendo Calafiori e prendendo Buongiorno probabilmente quest'anno si sarebbe rigiocata i primi quattro posti secondo me, tenendo Diago Motta eccetera perché ce l'aveva, perché ce l'aveva magari che so prendevi Buongiorno a 25, a 28, a 30, appoggiato il Napoli e prendevi Calafiori a 50, facevi Plus Valencia e vabbè e magari vendevi un Pankinaro, vendevi Lucumi che poi non è però a 20 milioni, 18 milioni cioè lo potevi fare, lo accettavo e questo l'Atalanta non l'ha fatto il passo grande un minuto e 40 per dirvi cosa, che l'Atalanta invece lo fa ogni anno oggi l'Atalanta per me, per quanto mi riguarda, è una grande non considerare l'Atalanta una grande dal mio punto di vista a oggi 19 agosto 2024, aspettando che stasera giocherà la Juventus col Como non considerare oggi l'Atalanta una big non considerare oggi l'Atalanta una pretendente allo scudetto è un errore poi si può dire che l'Atalanta farà fatica quando arriverà la Champions League sì, ma come faranno fatica le altre ragazzi non siamo più nel 2015, nel 2016-17 quando cavolo era i primi anni dell'Atalanta in Europa forse 2018, che dicevamo è però c'è una rosa corta, è però come fa quando va poi a giocare eventualmente la Champions League l'Europa League, sono tante partite, forse non ce la fa può fare fatica, non è quello non è più quello, l'Atalanta di oggi non è più quella squadra lì l'Atalanta di oggi è una squadra vera è una squadra che va a Lecce alla prima giornata con il Lecce che per me è forte il Lecce che ha tenuto solito il progetto dello scorso anno che non ha perso quasi niente, ha tenuto anche l'allenatore cioè quindi un Lecce che dal mio punto di vista al netto di quanto ho visto oggi si salverà a spasso e lo distrugge lo distrugge, lo distrugge letteralmente cioè è questa la differenza poi il Lecce qualche occasione se l'è creata non voglio venirvi a mentire e a dover gasare l'Atalanta e basta il Lecce qualche occasione se l'è creata però di fronte c'è un'armata io vi voglio di una cosa oggi l'Atalanta giocava nonostante i tanti acquisti con pochi nuovi gli unici nuovi erano Brescianini che tra l'altro mi fa sorridere mi fa sorridere Brescianini che praticamente giocava più avanti di Ederson e di Pasaric Brescianini che faceva il trequartista ma guarda tu ma dimmi te se io mi devo trovare che Brescianini tra un anno vale 50 milioni di euro allora a questo punto io chiedo cortesemente per il futuro alla Roma anche se lo odio da andare a prendere Gasperini perché veramente questo trasforma il pane in oro io non lo so come faccia questo trasforma l'acqua in vino io non lo so come faccia Gasperini ma non è possibile Brescianini al debutto che pare Cup Miners cioè io veramente ve lo giuro io ve lo giuro che per quanto io mi impegni io non lo so come diamine sia possibile che Gasperini ci riesca sempre Gasp ci riesce sempre 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 con tutti i giocatori che gli dai Gasperini ci riesce e Brescianini ne è l'esempio ne è l'esempio lampante Brescianini ne è l'esempio più più chiaro più preciso e vi dicevo oggi l'Atalanta che cosa fa? oggi l'Atalanta non mette manco tutti i titolari oggi l'Atalanta cioè non mette manco tutti i nuovi acquisti non li vediamo manco tanti vediamo solamente Brescianini vi dicevo e Riteghi ma Riteghi è obbligatorio vedere Riteghi oggi è obbligatorio perché Scamacca si è rotto Turei si è andata allo Stoccarda e pare che Luckman abbia chiesto di non essere convocato perché se ne vuole andare ma se io vi faccio vedere vi dico quelli che oggi non erano disponibili all'Atalanta mancava Scamacca e le mancherà per molto tempo con l'Asinac Toloi e Zaniolo cioè e nonostante ciò teneva comunque in panchina Sulemana Godfrey che poi è entrato Baccar cioè l'Atalanta di oggi aveva comunque delle mancanze importanti perché ce le aveva ora io vi dico come gioca l'Atalanta? al quadruplo ragazzi al quadruplo ripeto il Lecce non è una squadra scarsa cioè il Lecce è una squadra che per lottare per la salvezza avere giocatori come Falcone come Gaspar come Baschirotto come Dorgu come Rafia come Tete Morente come Kerstovi c'è tanta roba cioè poter comunque mettere dalla panchina magari quel Marc Vinsky che hanno comprato poco fa poter mettere dalla panchina quel Banda che comunque a me piace tanto Pierotti cioè il Lecce ce l'ha il Lecce ce l'ha eppure l'Atalanta è al quadruplo ragazzi e la cosa che più mi stupisce è che a fare la differenza è che a trascinare l'Atalanta sono i nuovi alla faccia di chi dice che al 19 di agosto è calcio di agosto eh sì è calcio di agosto ragazzi sì sì come no e il Milan è vabbè è calcio di agosto e l'Inter vabbè è calcio di agosto e il Napoli vabbè è calcio di agosto e la Roma vabbè è calcio di agosto è calcio di agosto l'Atalanta l'Atalanta è partita è partita come l'Inter dell'anno scorso e voglio aggiungere anche un'altra cosa a parte vedere ancora De Ron dietro che sta prendendo il ruolo nuovo come se fosse il suo lo sta assorbendo in tutto e per tutto ma al netto di ciò l'Atalanta ragazzi l'Atalanta parte sempre in ritardo parte sempre due mesi di ritardo cioè di solito l'Atalanta dopo dieci partite c'ha quattordici punti che magari fa magari no dopo dieci partite quattordici punti non li ha però magari dopo dieci partite fa cinque vittorie e quindi ne fa quindici tre pareggi e quindi arriva a diciotto e due sconfitte questo è quello che magari fa l'Atalanta in partenza poi nelle altre ventotto fa un andamento da scudetto se questa è l'Atalanta che parte se questa è l'Atalanta che inizia e io non oso minimamente immaginare che cosa succederà dopo io non mi azzardo non mi azzardo a pensare a cosa succederà dopo e vi dico e ve lo dico con grande sincerità che io credo che quest'anno l'Atalanta si gioverà lo scudetto io lo penso fortemente cioè io la vedo oggi è presto ma la vedo oggi e tra tutte le squadre che ho visto è letteralmente quella che mi ha impressionato di più e non per una partita cioè non è che se avessi visto Empoli-Monza finire qua tra zero avrei detto che l'Empoli è da scudetto non è che se avessi visto un'altra partita finire 5-1 avrei detto quella è da scudetto no non l'avrei fatto ma è proprio l'intensità l'intensità di gioco che ci mettono in campo oggi vanno avanti con Brescianini che è bravissimo a raccogliere sto pallone di Falcone dopo il colpo di testa di Reteghi che para Falcone e a calciare di prima intenzione a fare un gol bellissimo ok ed è un nuovo acquisto Brescianini è un giocatore buono del Frosinone Brescianini arriva dal Frosinone ma non è un top player e all'Atalanta lo diventerà all'Atalanta diventerà un top player e vi posso dire una cosa sono veramente contento che l'Atalanta abbia preso Reteghi per il calcio italiano così come Brescianini sono veramente contento perché chi va all'Atalanta vola Reteghi ragazzi Reteghi al 45esimo gli arriva sto pallone di Ruggeri lui sovrasta Baschirotto sovrasta Gallo colpo di testa bellissimo ed è il gol dell'1-0 l'Atalanta del 2-0 a fine prima l'Atalanta era già 2-0 l'Atalanta a fine primo tempo l'aveva già bella che è chiusa e archiviata e vuoi che Reteghi non ne faccia un altro ok su calcio di rigore in questo caso però anche lì Reteghi se lo guadagna il calcio di rigore Reteghi se lo guadagna il calcio di rigore perché prende un passione da Koulibaly va sul dischetto purga Falcone ed è gol e poi la doppietta di Brescianini ora io io resto basito io sono invidioso ve lo dico proprio sinceramente invidioso tantissimo tanta invidia per quanto mi riguarda per l'Atalanta ve lo dico proprio con sincerità perché loro hanno un progetto che funziona sempre il gol di Brescianini sul pallone di Pasalic è bellissimo Lecce lì ormai sul 3-0 era bello che è andato nel senso che non stava facendo più niente erano tutti fermi in fase difensiva però è un gol bellissimo ma soprattutto la cosa che mi preme dirvi la cosa che mi preme sottolineare farvi notare è come veramente loro azzecchino tutti gli acquisti io stavo pensando oggi alla gran partita che ha fatto Ederson ma Ederson sono due anni che fa solo gran partita Ederson non ne sbaglia una Ederson è un giocatore che è arrivato dalla Salernitana Brescianini è un giocatore che è arrivato dal Frosinone cioè se noi andiamo a prendere la formazione dell'Atalanta Musso è arrivato dall'Udinese Genzidi manco lo so da dove cazzo è arrivato per dirvi Yen credo dallo Spezia forse Ruggeri dove giocava prima dell'Atalanta tu lo ricordi io un buon ricordo Ruggeri dove giocava prima dell'Atalanta non me lo ricordo Zappacosta noi l'abbiamo frullato via Brescianini dal Frosinone De Chetelare lo ha cacciato il Milan De Chetelare lo ha cacciato il Milan Riteghi ragazzi vengono dal Genoa tutti a dire contro Riteghi e oggi l'Atalanta vince a spasso butta dentro pure Cassa e c'ha una marea di ragazzini Cassa Comi Manzoni Palestra Tornaghi Vavassori ma chi sono? Cioè questa era la panchietta che mi fa ridere quando poi parla magari un tifoso della Roma guarda la nostra panchietta quando parla un tifoso della Juve abbiamo 10 giocatori poi tutti gli altri non abbiamo più giocatori in panchietta cazzo ma questi si presentano con Palestra Manzoni Comi Cassa Bernasconi Tornaghi Vavassori ma chi so e distruggono il Lecce io non mi vergogno a dire che credo fortemente che quest'anno l'Atalanta possa giocarsi lo scudetto e non da sorpresa e non da sorpresa perché la squadra ce l'hanno perché continuano ad acquistare perché oggi giocava giocava Ruggeri ha fatto una partita della Madonna Ruggeri della Madonna perché è arrivato Wesley quando giocherà anche Wesley vediamo quanta differenza farà oggi è stato integrato Godfrey in prima squadra e vi ricordo in prima squadra va bene per la prima volta non sta giocando Carnesecchi raga non sta giocando Carnesecchi e vi ricordo che sono rotti per lungo tempo però un giorno tornerà anche Scalvini e troverà Godfrey quindi l'hanno preso per sostituirlo ma lo troverà tornerà Scamacca e troverà Riteghi l'Atalanta per me sta facendo una squadra da scudetto poi vedremo quelli che prenderà ha preso io mi stavo diventando ha preso Samarzic l'Atalanta ragazzi ha preso Samarzic cioè questi hanno detto hanno detto a Cup Miners che non vuole giocare statene a casa e ha preso l'Atalanta ha preso anche Samarzic cioè l'Atalanta si presenta con un parco attaccanti con Brescianini che ha già giocato lì De Ketelare Riteghi Samarzic Scamacca quando torna io non so se voi vi state rendendo conto io non lo so se voi vi state rendendo conto che mi hai detto Zaniolo Zaniolo pure Zaniolo io veramente non lo so non lo so ragazzi non lo so non so che dirvi per me l'Atalanta può vincere lo scudetto sì la mia risposta è sì questa Atalanta può vincere lo scudetto anzi vi dirò di più questa Atalanta può fare un percorso da Napoli di due anni fa poi non è che se mi dite può aprire un ciclo di vittorie di Serie A magari no quest'anno può farlo per me cioè io vedo l'Atalanta e dico per me a livello di gioco a livello di intensità a livello di idee non ha niente in meno niente in meno dell'Inter del Milan della Juve del Napoli io vi dico la verità se avessi fatto la classifica poi tra l'altro l'ho messa sesta mi pare il coglione che sono io come al solito e faccio le stronzate ma l'Atalanta per me ha grandi possibilità di di arrivare nei primi due posti e di giocarselo lo scudetto fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto iscrivetevi al canale ci vediamo dopo con la Juve boccia lalla e ciao